E stupendo tutti youtubers e benvenuti in questo nuovo video qui calciano e noi ci siamo in questo nuovo episodio di Clash Royale Ok ragazzi scusate per la mia assenza sul canale Perché appunto ho avuto l'esame di terza media e non ho avuto il tempo di portare i contenuti appunto su youtube E però adesso che siamo finiti partiremo a bomba Ho deciso di portare il nuovo Clash Royale perché la scorsa è presente che è andato molto bene Inoltre torneranno anche i parodi con Franco Tantalone che in questo ultimo periodo non si è fatto molto sentire sul canale ma tornerà tornerà Ho trovato un bolle magico e purtroppo lo stavo anche registrando però purtroppo non si è corretto la registrazione e niente Perfetto questo è ancora il nostro deck abbiamo potenziato i goblin acenti a livello 4, abbiamo il bombarro a livello 5, i goblin normali a livello 4, il principe all'1 ancora è difficile trovare i principi Oggi probabilmente vinceremo una corona almeno speriamo E però non aprirò il baule perché farò nel prossimo episodio un mega pack opening di tutti questi baule lì soprattutto questo bellissimo baule magico E quindi niente Ok bando da cianci e iniziamo con la Ok siamo contro un giappo cinese non potrei dirvi il nome Chuanquanquanquan qualcosa E l'avversario ha lasciato lo scontro E l'avversario ha lasciato lo scontro Taglio questa parte che tanto è noioso perché non è una battaglia quindi ci vediamo nella prossima battaglia Ok questo è il baule aspettiamo ad aprirlo Cioè l'apriamo nel prossimo episodio Anche se la tentazione è forte Allora Questo è Ok ragazzi eccoci qua Finalmente Questa battita è veramente come battuta Bisogna fare così Mini pack al 3 non male Mini pack al 3 Ok l'unica va giù E ce li pesi era stragrande Possiamo fare così E lui dovrebbe avere qualcosa per difendere Vediamo cosa si mette Probabilmente i barbari Eh no non mette niente Perché? Eh beh ragazzi la torre praticamente è giù Eh la torre è giù Quindi non fa niente? Proviamo un attimo a A stuzzicarlo Probabilmente per problemi di connessione No vabbè ragazzi ma non tutte le partite così dai Boh Facciamo così Niente facciamoci un'altra partita 224 copie Maggi già Ok potenziamo Niente Potremmo potenziali niente Sticcavo però eh Dobbiamo fare così va Ok Facciamo così Compriamoci Dove sono le frecce Ok Mi arroncio le frecce al 4 Saliamo a livello 4 Perfetto 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 Il livello 4 Finalmente Usiamo le frecce al posto della sfera infuocata Che secondo me è meglio E facciamoci un'altra partita Speriamo che questo quando lasci lo scontro Ancora giappo cinese Va bene Allora Preferisco mettere le frecce Perché comunque Per esempio Se facciamo la combo Gigante E Principe dietro Magari È sbagliato E Lì ho un bel problemino Allora facciamo così Però è sbagliato Eh no È sbagliato Facciamo così Bombarolo Così a caso Ok Vabbè Ci siamo abbastanza Ci siamo difficili Abbastanza bene Siamo messi leggermente I mani Da un po' Tutte due le parti Ok Perfetto Bombarolo Ha fatto i suoi danni Eh Questa non farà Niente Facciamo così Allora Perfetto Ci siamo difesi E noi possiamo Attaccare Io cosa mette Alla Valchide Va bene Alla Valchide Noi possiamo difenderci così Vabbè Voi mi sa che è molto più riservi di noi In questo momento Quindi Era un bel problema Adesso Vabbè Non ci è arrivato Ma non è proprio un problema Possiamo mettere Lui c'è il gigante In questo momento Possiamo fare Eccolo Vedete Il bombarolo Ehm Ehm Queste qua Ma è un bel problema Allora Facciamo così Frecce 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 Oh No No Vabbè No Ragazzi No Ragazzi Però Ehm Dio No Sì proprio Quando ci sotto La palla di fuoco Non ci credete No Vabbè Che cacchio mi ha messo Vabbè ci prendiamo così la corona a casa No non sono giudicato a prendermi la corona Vabbè dai ragazzi Questi sono giapponesi Voi dovete capire quando avete un giapponese Basta via potete anche finire il gioco Perché è impossibile vincere Ok Niente 102 coppie Allora è stato un episodio un po' strano Perché molte hanno abbandonato la partita Ma comunque ci sta Allora Noi abbiamo 902 coppie Il nostro deck è di livello 4 E mi raccomando guardate il prossimo episodio Che ci sarà un bellissimo pack opening Del baule della corona Tutti questi bauli e soprattutto di questo Baure E niente spero che questo video vi sia piaciuto Lo so che è stato un po' un episodio così Così Perché un po' tutti hanno abbandonato Un po' la sfida Problemi di connessione Che palle L'ultima battaglia è stata molto combattuta E abbiamo perso purtroppo E niente Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Commentate Condividete E Ciao Mi raccomando di seguirmi su Instagram E Facebook Grazie a tutti Grazie a tutti